Consigliere Perri, questa sera si è parlato di un volantino che sembrava anonimo, che poi anonimo non è nei confronti del sindaco. Ci spiega come sono state le cose? Diciamo che non è un emerito propaganda politica che si fa nel nostro ruolo di opposizione legata al fatto della commissione antimafia che ha interrogato il sindaco Giordano in merito e ha dichiarato questa faccenda dell'omertosità. A seguito di un comunicato, di un articolo di giornale dove praticamente veniva dichiarato che il sindaco era omertoso, noi abbiamo soltanto fatto una scansione di questa situazione e abbiamo fatto una propaganda di natura amministrativa. E siete anche addirittura autodenunciati? Ma sì, perché non la reputiamo nessuna situazione diffamatoria, ma riteniamo soltanto di aver fatto una propaganda di natura politica.